Bentornati a Medicina 5 MHz. Oggi parleremo di arresto cardiaco e della possibilità che ognuno di noi ha di salvare una vita. L'arresto cardiaco è una situazione di emergenza, caratterizzata dalla improvvisa cessazione di attività di pompa del cuore che è accompagnata da una perdita di coscienza e dall'arresto respiratorio. Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità in Italia e molte volte l'arresto cardiaco è l'evoluzione di una malattia non trattata oppure non conosciuta. Purtroppo le nostre cellule cerebrali sono delicatissime e iniziano ad entrare in sofferenza già dopo 4 minuti dall'assenza di flusso. Dopo 10 minuti di carenza di flusso e di ossigeno possiamo immaginare la morte cerebrale. È per questo che è necessaria un'azione repentina che cerchi di mantenere o ripristinare l'attività di pompa del cuore. Ed è qui che possiamo entrare in gioco ognuno di noi, davanti a una persona in arresto cardiaco, chi sia che sia un adulto o un bambino, è importante iniziare subito una RCP. RCP è l'acronimo di rianimazione cardiopolmonare, una tecnica che consta di due manovre, il massaggio cardiaco esterno e la respirazione a bocca a bocca. In questo modo si può tentare di sopperire alla mancanza di attività cardiaca e la mancanza di attività respiratoria, garantendo sangue e ossigeno agli organi vitali. Ogni anno in Italia si verificano circa 60.000 arresti cardiocircolatori e le possibilità di sopravvivenza senza un primo soccorso sono inferiori al 2%. Queste possibilità però possono arrivare fino al 50% qualora venga anche applicata una defibrillazione, cioè l'applicazione di due piastre sul torace e l'erogazione di una corrente elettrica che è capace di far ripartire il cuore qualora questo sia arrestato in fibrillazione ventricolare. Imparare a fare tutto questo dunque è a riconoscere un arresto cardiaco e saperlo trattare in attesa che arrivi personale sanitario è più facile di quanto possiate immaginare. Sono numerose le associazioni, anche di volontariato, che ogni anno impartiscono corsi di BLS, BLS è l'acronimo di Basic Life Support, e se ognuno di noi è capace di trattare un arresto cardiaco non soltanto aumentano le possibilità di sopravvivenza ma soprattutto aumentano le possibilità di sopravvivenza senza reliquati neurologici. Pensaci, nelle tue mani e nelle tue braccia hai la possibilità di salvare una vita, iscriviti ad un corso BLS, magari ti appassionerai la medicina e intanto continua a seguire Medicina 5 MHz. Io ti aspetto!